Secondo video, stiamo ripartendo per andare al moitone No, più che altro stiamo... Ma poi dove cazzo devo andare? Vabbè, ma le macchine, ma le puoi lasciare qua? Sì, certo che le puoi lasciare qua Ne avevo visto un buco più vicino al moitone prima Giù nella stradina Se non me l'hanno fottuto, e lì ancora Sto facendo... Ah, sta andando il video? Sì Allora, stiamo cercando... No, io non so perché si è messa per la seconda volta dietro E domani sto, 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 sto davanti Allora, stiamo cercando un parcheggio per andare al moitone Che ho visto, appunto, l'avevo visto giù nella stradina prima L'hai visto? Sì Ma magari ancora libero Sì, te l'hai, sì Sarebbe, in teoricamente... Mi è avessato a piovere un po', eh, no? No, vabbè, sì, un po' dice che è aumentato Sì A me sembra di sì No, prima è diminuito, sembra che non dovesse più... Oh, è la prima volta che veniamo al moitone in macchina, ragazzi È vero, in macchina sì Ma no, ma che cosa dici, Mike? Ah, no, è vero, è vero, è vero Con la Terry la seconda, la prima volta Perché la prima volta stavamo spedando la Terry Che si aggiungeva che dovevamo andare al Caroni Ma se io la metto qua... E se sulle strisce però Sì, ma non penso che passi in piedi Stati notte sotto la pioggia, ragazzi Secondo voi...